Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano, sebbene manchino ancora 10 giorni al weekend di Pasqua, possiamo provare a tracciare una prima tendenza meteo. Non dimentichiamo però che l'incertezza è ancora troppo elevata come potete vedere anche dagli spaghi, per poter stilare una previsione dettagliata. La terza decade di marzo risentirà ancora degli effetti del potente stratwarming di metà febbraio, con condizioni meteo molto dinamiche caratterizzate sia dal maltempo sia ad aria più fredda, proprio come in questa settimana. Stando alle ultime uscite dei modelli, in vista di Pasqua tutta l'Europa e anche l'Italia dovrebbe essere interessata da una nuova perturbazione di origine atlantica, che potrebbe portare nuove piogge come anche neve sui rilievi. La situazione è in continua evoluzione. Per rimanere sempre aggiornati sulle condizioni meteo anche in vista del weekend di Pasqua, iscrivetevi al nostro canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.